L'incidente in Corso Italia arriva a Rolo Canavese questa mattina poco prima delle 12. L'impatto è avvenuto tra un Dacia Docker guidato da un 38enne di Castellamonte e una motocicletta Aprilia 750 a dorso duro, condotta da un 50enne di Collegno e con lui una donna. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale, i carabinieri di Rolo Canavese e la Croce Rossa di Castellamonte. I due motociclisti sono rimasti lievemente feriti, ad una mano lui e a una caviglia lei, e sono stati portati, dopo una prima medicazione, al pronto soccorso di Guarnier, illeso il conducente della Dacia. I due motociclisti sono rimasti.